Secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie Grazie mille Sbirbot per il sesto mese Ma hai tinto i capelli? No 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 Infatti non so se ci fate caso raga Ma infatti io stavo pensando Aspetta un attimo Ho fatto una cazzata un attimo Dicevo stavo pensando anche di correggerli in live in qualche modo Però non so se sia possibile Vinciamo ragazzi, vinciamo Vinciamo raga Comodorino Ottimo ma chi è quello lì nano nero e di colore blu? Chi è? Incazzato come un mostro Non ho letto i nomi dei miei compagni Sono una merda Raga Nero nero blu, guardalo lì Così È così il nano nero blu Andiamo raga Let's go Collo Let's Ma non so che significhi Ma non so che significhi Gardland Gardland La notte di Halloween Anche se mi piacerebbe tanto Ho un po' paura che poi sia una stronzata Una stronzata alla fine Cioè serie Più per bambini magari Scusatemi Il demone sta tornando Ho paura che sia una roba del genere Però sarebbe da fare Il blu tornado lo chiudono Ma infatti a propos Ma che cazzo no? Posso venire gli amo Averti le guance No Non cap- No 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 Comunque No Ehm Quindi La parentesi No Vip No 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 Sono arrabbiato Che mi- C'è un pezzo di merda C'è un pezzo di merda C'è un pezzo di merda bastardo Grazie per i bits Sono arrabbiato di Simone Sono impulsivo Simone Aaaaaaah No Vai giù Madonna 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 C'ho il cuore che mi- Aaaaaah Sono arrabbiato di merda Let's go Let's go Aspetta Sì 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 Gli amichetti sono andati via. Gli amichetti. Ah, t'erano un amichetto. Uno, due, tre... Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Oddio, ziringo! Vorrei la foto pillola sputata. Ci servono più foto, più informazioni, più foto. Bisogna... Raga, dobbiamo essere più severi qua. Dobbiamo avere le prove di quello che raccontano. Igi è la padrona di Toki. Non ce l'ho. No al 60. Let's go. Questo lo amo. Tai. Acronimo di Tanks U. Sei anni. Amo il cibo. Oddio alla gente. Oggettivamente ha crescita la più bella del pianeta. La cosa che mi fa ridere di questo cane è che raga, a quattro anni era contentissimo. Tai, vimpa Giacomino! No, io lo voglio! Tai, vimpa Giacomino! Palle di merda! Grazie, Damiano! Non ho mai di rimborso! Come si rimborso in lesab? Poi arrivo. No, no, no! Non funziona così! Lesab si stanno... Si vogliono supportare lo streamer non per fargli fare le cose che non vuole. Non c'è gente raga, perché poi ieri faceva anche un stacco fresco. Che è successo? Avevano sbagliato. E poi, no, anche altri... Bellino, questo qua. Dove li ho presi? Ciotto Minute. Ciotto Minute su Instagram. Accettano tot ordini al mese o alla settimana. Quindi bisogna vedere quando li accettano, ma a me sono stati abbastanza veloci. Magari ho avuto culo, eh. Mi hai detto sfizioso ancora? Sono molto sfiziosi. E poi no, anche altri. Cos'è? Scusatemi, aspetta che devo... Aspetta... Me ne sono accorta prima. Scusatemi, adesso rimetto tutto come prima. Niente, mi stavo appoggiando così, mi sono accorta che appunto la... la gamba sembrava un culo e ho detto toh, facciamo vedere il mio culo a Twitch, voilà. Voglio le reaction di Eren al pupazzo. Quando torna, abbiamo detto. Quando torna Eren, ve l'ho detto che vi prometto che non glielo farò vedere pre-live. Io la faccio vedere nel momento in cui siamo in live e vediamo che reaction ha. Secondo me, se ne sbatte altamente il cazzo. Proverà a mordicchiarlo un attimino e poi si romperà nel momento in cui si rende conto che non riesce a prenderlo perché è troppo grosso. Eren odia quando le cose che si mette in bocca sono troppo grandi e non riesce a tenerle. Gli piace di più quando gli fittano bene bene in bocca. No, non provo a montarlo. Eren non ha mai montato niente. Non lo monta? Sto rizzendo a... No, raga, non sto scherzando. Tipo anche quando gli compriamo delle palline nuove lui preferisce le palle che gli entrano facilmente in bocca. Non vuole le palle grasse. Però è vero. Come fai ad essere di qua? Cioè, perché? Mi aspettavo la moglie, sinceramente. No, mamma! Sì ma è duro In realtà volevo fare anche lo sfondo Ma poi mi sono attaccato di farlo E il secondo era Boku no Pepe Anche questo è molto bello Opera incompiuta questa Sì lo sfondo non è stato compiuto Questo è un vogherito originale Come le grandi opere non è stato terminato Quindi qua c'è il bellissimo Boku no Pepe Il... Um... Allora... 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 Allora...